Passo indietro, tanti rimpianti ma pari giusto. Senza punte di ruolo il Monterosi fa un figurone, corre di più e nel finale rimonta due gol. Ingenuo Jabua che lascia i compagni in dieci, per la prima volta la squadra di Colombo concede troppo e difende male. Dunque il veleno nella coda di una partita che Mora e compagni non interpretano come al solito, meno intensità, pressione e aggressività. Il Pescara sblocca il punteggio al 22esimo ma poi decide di amministrare, cosa che evidentemente non è nelle sue corde. Eppure espulso Jabua, l'undici Biancazzurro trova il raddoppio nel momento di maggiore sofferenza. Non chiude però il match e negli ultimi minuti dopo la rete di Paolo Antonio vanifica tutto concedendo troppo e difendendo male. Per la dinamica sono due punti persi ma risultato giusto. Stradamente Colombo ha fatto solo tre cambi, probabilmente ma sempre col senno di poi sul 2-0 sarebbe stato opportuno opporre una strenua difesa con cinque uomini inserendo in grosso al posto di Cancellotti e Germinario centrocampo il luogo di De Sogus, una sorta di 5-3-1. Onore comunque al Monterosi, senza attaccanti, con sei under in campo, privo soprattutto della sua punta di diamante, l'abruzzese di Scerne, di Pineto, Rocco Costantino. Non solo organizzazione ma anche idee e tanta corsa. Tra i migliori plizzari, e questo spiega tante cose, Cancellotti, gol, gioiello, Mora, una rete fatta e una evitata. Non è dispiaciuto De Sogus, positivo l'impatto sul match di Palmiero, subentrato a Craia. La squadra non può fare a meno delle geometrie dell'ex Cosenza. Confermate le nostre sensazioni, Tupta non ha i movimenti dell'esterno. Ha caratteristiche da prima a seconda punta. In questo sistema di gioco può fungere solo da alternativa all'Escano. Nel Monterosi in evidenza Carlini, Sant'Arpia, Parlati e Alessandro Di Paolo Antonio entrato in corso d'opera. Come sempre lucido nella disamina post partita Alberto Colombo, che con grande onestà intellettuale ha sottolineato gli errori, soprattutto di atteggiamento della sua squadra, e elogiato l'avversario senza perdersi in polemiche sterili legate alla direzione arbitrale. Del resto una giornata sottotono può capitare. L'importante è fare tesoro degli errori e ripartire di slancio.